Che buoni questi tortellini! Ah, soccina, sono bolognesi. Tiziano, ma che bella questa pesa armonica! Sapesi tu come suonava? Come suonava? Oh, il 13 dicembre al Teatro Fanin saremo in tanti fisiamolicisti proprio per ricordare Carlo Venturi. Ci saremo noi e tanti altri ospiti. Ehi ragazzi, ci sarò anch'io! Ma lasciatemi due tortellini, dai, per favore! 13 dicembre, Teatro Fanin. 13 dicembre, Teatro Fanin.